la siriologia allora è lo studio del diciamo principalmente della lingua e della storia della siria e della mesopotamia e del di babilonia quindi del territorio mesopotamico anche se in realtà devo dire che qui oggi ci sono anche studiosi che si occupano di ambiti simili ma un po diversi come la storia della lingua ittita oppure della civiltà sumerica quindi diciamo abbiamo cercato di riunire un po tutti questi questi ricercatori è assolutamente interessante che i giovani ricercatori italiani si ritrovino discutano e confrontino i loro progetti di ricerca eventualmente trovino delle sinergie ed è interessantissimo anche per chi appartiene a una generazione un po precedente avere un contatto molto stretto molto diretto con queste giovani generazioni Grazie a tutti Grazie a tutti